tagliatelle al gorgonzola ingredienti 400 grammi di tagliatelle all'uovo 100 grammi di gorgonzola cremoso mezzo bicchiere di latte 30 grammi di burro pepe nero sale preparazione cottura 20 minuti difficoltà minima per 4 persone mettete sul cuoco una pentola con abbondante acqua salata quando vuole fatevi cuocere le tagliatelle nel frattempo preparate il condimento in una ciotola grande abbastanza per contenere anche la pasta mettete il burro e gorgonzola a pezzetti con una forchetta schiacciateli e mescolatevi unitevi il latte e continuate a mescolare amalgamando bene gli ingredienti il composto deve risultare cremoso quando la pasta è cotta scolatela mettetela nella ciotola mescolatela bene con il condimento aggiungetevi una macinata di pepe e servite varianti la scelta del tipo di gorgonzola da impiegare può variare il gusto del piatto potete renderlo più piccante utilizzando un gorgonzola stagionato oppure più dolce sostituendo parte del gorgonzola cremoso con del mascarapone a vostro piacimento potete completare il piatto con prezzemolo tritato